L'Università di Cosenza ha ospitato Paloma Picasso, figlia dell'indimenticato Pablo, straordinario artista del secolo scorso, autore di importantissime opere e anche di inestimabile valore. Paloma Picasso ha parlato del rapporto con suo padre, cosa abbia significato essere la figlia di un talento del genere e come è cresciuta all'ombra di un uomo tanto incredibilmente interessante e celebrato. Prima di tutto io dico sempre che il mio più bel regalo che ho avuto è essere chiamata Paloma perché sono stata chiamata Paloma perché la Paloma è la colomba della pace e lui il congresso della pace si aprò il giorno dopo della mia nascita. Durante la festa che avevano fatto il giorno prima hanno annunciato che lui aveva una figlia e quindi mi ha dato il nome Paloma.